Ciao ragazzi, faccio questo video, questo piccolo video, perché vi voglio dire che scusate se in questi giorni non ho caricato e che non ho caricato, porca puttana non posso più registrare, ok, non ho avuto tempo di caricare, ma vaffanculo, non ho avuto tempo di caricare perché praticamente ero impegnato, faccio questo mini video senza intro e senza niente, ragazzi tranquilli, vi voglio dire che tranquilli, domani carico, quindi non sono morto, sono ancora qui perché magari qualcuno poteva anche pensare che fossi morto, no, sono ancora morto, ok basta, quindi ragazzi, questo qua è un piccolo video che ho fatto senza intro, domani carico tranquilli, ciao